Quando fu un mattino, tutti i capi dei sacerdoti e le altre autorità del popolo si riunirono per decidere di far morire Gesù. Alla fine lo fecero legare e portar via e lo consegnarono a Pilato, il governatore romano. Quando Giuda, il traditore, vide che Gesù era stato condannato, ebbe rimorso. Prese le trenta monete d'argento e le riportò ai capi dei sacerdoti e alle altre autorità. Disse, ho fatto male, ho tradito un innocente. Ma quelli risposero, a noi che importa, sono affari tuoi. Allora Giuda buttò le monete nel tempio. E andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti raccolsero le monete e dissero «La nostra legge non permette di mettere questi soldi nel tesoro del tempio, perché sono sporchi di sangue». Alla fine si misero d'accordo e con quei soldi comprarono il campo di un fabbricante di basi per destinarlo al cimitero per gli stranieri. Perciò quel campo si chiama anche oggi campo del sangue. Così si avverarono le parole del profeta Gerenia. Presero le trenta monete d'argento, prezzo che il popolo di Israele aveva pagato per lui, e le usarono per comprare il campo del vasaio, così come il Signore mi aveva ordinato. Gesù fu portato davanti al governatore romano. Quello gli domandò «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù rispose «Tu lo dici». Intanto i capi dei sacerdoti e le altre autorità portavano accuse contro di lui, ma egli non diceva nulla. Allora Pilato gli disse «Non senti di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose neanche una parola. Tanto che il governatore ne fu molto meravigliato. Ogni anno, per la festa di Pasqua, il governatore aveva l'abitudine di lasciare libero uno dei carcerati, quello che il popolo voleva. A quel tempo era in prigione un carcerato famoso, di nome Barabba. Quando si fu riunita a una certa folla, Pilato domandò «Chi volete che sia lasciato libero? Barabba? Oppure Gesù detto Cristo?» Perché sapeva bene che l'avevano portato da lui solo per odio. Mentre Pilato era seduto al tribunale, sua moglie gli mandò a dire «Cerca di non decidere niente contro quest'uomo innocente, perché questa notte, in sogno, ho sofferto molto per causa sua». Intanto i capi dei sacerdoti e le altre autorità convinsero la folla a chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù. Il governatore domandò ancora «Chi dei due volete che lasci libero?» La folla rispose «Barabba!» Pilato continuò «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero «In croce!» Pilato replicò «Che cosa ha fatto di male?» Ma quelli gridavano ancora più forte «In croce!» «In croce!» Quando vide che non poteva fare niente e che anzi la gente si agitava sempre di più, Pilato fece portare un po' d'acqua. Si lavò le mani davanti alla folla e disse «Io non sono responsabile della morte di quest'uomo!» «Sono affari vostri!» Tutta la gente rispose «Il suo sangue ricata su di noi e sui nostri figli!» Allora Pilato lasciò libero Barabba, fece frustare a sangue Gesù, poi lo consegnò ai soldati per farlo crocifiggere. Allora i soldati portarono Gesù nel palazzo del governatore e chiamarono tutto il resto della truppa. Gli tolsero i suoi vestiti e gli gettarono addosso una veste rossa. Prepararono una corona di rami spinosi e gliela misero sul capo. Nella mano destra gli diedero un bastone. Poi incominciarono a inginocchiarsi davanti a lui e a dire ridendo «Salve, re dei giudei!» Intanto gli sputavano addosso, gli prendevano il bastone e gli davano colpi sulla testa. Quando finirono di insultarlo, gli tolsero la veste rossa e lo rivestirono con i suoi abiti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo.